Riprendiamo dall'ultima domanda che era amare la propria città, eravamo rimasti al fatto che noi in curva avevamo portato comunque i colori del Monza in giro per tanti stadi d'Italia, riprendiamo da lì. Sì, abbiamo sviluppato coreografie negli anni dove abbiamo preso i simboli della città di Monza con coreografie fantastiche, che sono ovviamente le nostre possibilità, e non ultima, ad esempio quella fatta con Vicenza, abbiamo messo il simbolo della luna rossa imperiale sopra il sole papale, che in molti non riuscirono a capire che cos'era, in realtà è il simbolo storico della città di Monza, quindi abbiamo sempre avuto una forte ascendente su quello che è il territorio, e non a caso anche in tempi passati abbiamo sempre preferito, quando anche le presentazioni della squadra venivano fatte in centro città, proprio per riportare al centro del cuore della città il calcio Monza. Certo, una domanda invece sul ritiro del Monza, abbiamo visto che ieri il triangolare non è andato come sperato, nel senso che non ci sono state vittorie per 5-0, ma anzi Monza ha perso la prima partita e la seconda invece ha perso i rigori. Ti preoccupa questa cosa oppure secondo te è una fase normale in quanto la preparazione è iniziata adesso? Beh, in realtà non mi preoccupa nulla perché il calcio d'agosto, come spesso accade, non ha mai dato delle indicazioni vere, e come hai detto giustamente tu, conta molto la tipologia di preparazione, si fa una preparazione molto pesante, sicuramente si è molto più imballati, e di solito una squadra che vuole vincere, vuole andare a fine in fondo, fa una preparazione un po' più pesante, mentre le squadre potevano salvarsi, di solito fa una preparazione più leggera per partire subito forte e incanalare un po' di punti. Era un po' la nostra strategia al tempo con suzzoni, in realtà partire leggeri, mentre infine il cascino più possibile, poi avevamo un calo verso novembre, dicembre e gennaio per poi riprendere un po' l'alba. Non mi preoccupo assolutamente, io credo che faremo un anno da protagonisti e me lo auguro, come tutti i tifosi del Monza, me lo auguro soprattutto per i ragazzi in curva che hanno fatto sempre tanti sacrifici, non ultimo quello di andare anche in ritiro, a parte che quello è anche un piacere, andare in ritiro per far vedere già subito che ci siamo, siamo a loro fianco, sia nei momenti belli che nei momenti brutti. Ok, ti faccio una domanda, io di solito non faccio domande sui giocatori perché vorremmo dire e generalizzare, però un giocatore simbolo della rinascita di questo Monza non può che essere il capitano Andrea De Rico. Ecco, cosa ci dici sul capitano e effettivamente secondo te merita la fascia? Guarda, io me lo ricordo in un Pro Patria Monza, dove giocava in fascia, che dima spesso verso destra, e stando dal settore ospiti quando viene in fascia e attacchi su quella porta praticamente ci arrivo di fronte, mi ricordo un ragazzo molto fastidioso nel modo di giocare. Poi è arrivato a Monza, fortunatamente, l'anno dopo, e da lì una prima stagione sicuramente un po' complicata, perché comunque è stata una stagione un po' complicata, la prima di Colombo, e come tutte le prime stagioni, quindi poi ci sono dei corsi storici, non necessariamente si ottiene quello che si vuole, ma poi si mettono le basi per costruire qualcosa di importante. Io sono molto contento che Andrea sia rimasto l'anno scorso dove doveva andare via, sono contento che sia rimasto qui quest'anno, è un ragazzo che vale molto perché è un ragazzo umile, che è sempre disponibile con tutti i tifosi, è un ragazzo di cuore, spero che non si monti la testa, ma sono convinto che non lo farà. Spero e mi auguro che rimanga sempre al centro di questo progetto bianco-rosso, perché è severo che il calcio è anche romanticismo e vero che ci vuole anche le bagnere. E un Andrea Del Rico che parte dalla Serie D e col Monza scala le categorie, sicuramente è una storia molto bella da raccontare anche in vuoti. Ci mancherebbe. Un'ultima domanda invece prima dei saluti. Tante volte ci sono delle critiche per quanto riguarda il mercato, soprattutto quello che riguarda l'ascesa di giocatori dalla Serie A in una categoria come la Serie C. Io per esempio tante volte mi sono dimostrato abbastanza scettico su questa cosa qui, perché ho visto poi come sono andate alcune squadre come il Lecce, che ha perso la finale play-off a Carpi, o il Lecce comunque l'anno dopo, quando con Miccoliano Scardelli non riuscì ad arrivare effettivamente in Serie B e poi arrivare in Serie A. e questo perché comunque la Serie C molto spesso si tende a sottovalutarla, quando in realtà è una categoria molto più difficile, forse addirittura più difficile della Serie B stessa. Allora, io credo che ogni categoria abbia le sue difficoltà e i suoi tranelli. e quindi quando si fa la scelta di scegliere dalla Serie A o dalla Serie B in Serie C, bisogna avere la capacità, ma questa è più una capacità della società, di attore sportivo e eventualmente del mister, di scegliere quei giocatori che umanamente e caratterialmente siano in grado di calarsi nella categoria, perché come hai detto giustamente tu, non vuol dire necessariamente che un giocatore che sceglie categoria possa fare la differenza, anzi spesso viene risucchiato in un imbuto, molti vengono anche a rubare semplicemente soldi, in una società dove si sa che comunque i soldi non mancano, e in tanto meno non si rischia di rimanere senza stipendio, come invece accade da altre parti, quindi non è necessariamente un problema di situazione in senso lato, è un problema proprio di giocatori, quindi ci sono giocatori che vale la pena prendere, ci sono giocatori che invece è meglio lasciare dove sono, perché sono semplicemente un problema, perché quei giocatori rischiano, cioè sono i giocatori più difficili da scegliere perché rischiano anche di sbattare lo scogliatoio, sono quei giocatori che magari hanno una certa personalità, arrivano, iniziano a mettere in discussione le scelte del mister, iniziano a creare dei gruppetti, e se non si calano pienamente nel progetto societario, rischiano di essere deleteri invece anche positivi. Ok, va bene, è arrivato il momento dei saluti, Fausto, ti è piaciuta l'intervista? Sì, ti ringrazio, perché è sempre bello parlare di Curva, parlare di Monza, parlare di questi anni, e spero che queste interviste servano a girino il più possibile per portare più persone allo stadio, per farle avvicinare alla Curva, che è una bellissima realtà la nostra, dove ci si diverte tantissimo, dove c'è una passione vera, una passione senza interesse di nessun tipo, e il mio augurio è che sempre più ragazzi giovani si possano avvicinare ai colori miei corsi. Ok, hai qualche saluto da fare, qualche ringraziamento in particolare, qualche messaggio da mandare? Gli unici messaggi che io mando sempre, ringraziamenti, sono a tutti i ragazzi che in questi anni con me hanno mantenuto vivo il vecchio ricordo del calcio Monza, l'hanno portato in giro ovunque, e hanno fatto in modo che questo interesse sia sempre andato oltre quello che potesse essere la categoria, perché solo così facendo tu riesci a tenere un filo conduttore tra quello che è stato il Monza negli anni 70, è quel Monza che può diventare ai giorni d'oggi, sperando di arrivare anche molto più in alto ovviamente. Quindi i ringraziamenti vanno a tutti quei ragazzi che mi hanno seguito in curva, che con me hanno fatto tantissimi chilometri in giro per l'Italia. E l'augurio, il messaggio, abbiamo delle stagioni magnifiche davanti, venite con noi, non me ne pentirete, ci diverteremo tantissimo. Ok, si ringrazia posto Marchetti per l'intervista. Grazie a te. Grazie a te. Ciao ragazzi, forza Monza sempre.